Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo con i funerali che si sono svolti questa mattina a San Nicolò a Tordino dell'ex presidente della provincia di Terramo Ernino D'Agostino tanta la gente che ha affollato la chiesa per l'ultimo saluto che andiamo a vedere in questo servizio di Paolo Renzetti. Amici compagni di partito ed avversari politici e tanta gente comune ha reso l'ultimo saluto questa mattina ad Ernino D'Agostino ex presidente della provincia di Terramo scomparso mercoledì mattina all'età di 55 anni dopo aver a lungo lottato contro un male incurabile. La cerimonia funebre si è tenuta all'interno della chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Nicolò a Tordino ed è stata celebrata dal vescovo di Terramo Atri Monsignor Michele Seccia. Nell'omelia Monsignor Seccia ha ricordato la passione e la dedizione che D'Agostino ha sempre mostrato nel corso di tutta la sua attività amministrativa come segretario del partito comunista da consigliere provinciale poi da presidente dell'ente ed infine da militante del partito democratico e nella battaglia all'interno del Sunia e Feder Consumatori. Della capacità di comprendere i problemi, le proposte, il modo di mettersi al servizio della comunità e di esercitare il proprio ruolo, il proprio di spirito, di servizio. Parlo le scontate, credo che per me no. Ecco perché questo momento deve essere il momento di questione di faccio. Al termine dell'esequio un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro e poi c'è stato spazio anche al ricordo di quanti hanno vissuto e condiviso la passione politica di Ernino D'Agostino. Ha vissuto momenti difficili il presidente D'Agostino dal punto di vista politico ed anche dal punto di vista umano, ma non ha mai dimenticato da dove proveniva e le ragioni del proprio impegno. E il momento più difficile non è stato quando ha perso una competizione politica, il momento più difficile è stato quando dovendo cimentarsi in un nuovo percorso lavorativo, in una nuova vita, lui è stato costretto ad abbandonare la politica e l'attività istituzionale. Da questo punto di vista la comunità politica a cui io appartengo e me compreso sono stati colpevolmente assenti e oggi anche al loro nome io chiedo scusa. Ciao Ernino, sei stato un esempio per tutti noi. Siamo avanti con una notizia di cronaca. Potrebbe esserci stata una distrazione alla guida all'origine dell'incidente in cui nella tarda serata di ieri ha perso la vita un operaio 23enne di Sant'Egidio alla Vibrata in provincia di Teramo. La vittima Federico Palantrani era alla guida di un Fiat Cubo che per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Giulianova ha dapprima sbandato, poi ha centrato un palo della pubblica illuminazione ed infine si è ribaltata più volte in mezzo alla carreggiata. Nell'impatto il giovane conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è rimasto schiacciato sotto l'auto morendo sul colpo. Inutile il soccorso da parte del 118 e dei Vigili del Fuoco. Questa mattina all'esito della ricognizione cadaverica il pubblico ministero Davide Rosati ha disposto alla restituzione della salma ai familiari per lo svolgimento delle esequie. Adesso ci occupiamo di sanità nel corso di un incontro pubblico a cui ha partecipato anche l'assessore regionale Silvio Paolucci. La Cis Abruzzo ha presentato una serie di proposte sulla nuova sanità nella nostra regione. Vediamo. Maurizio Spina, cosa chiede la Cis Abruzzo all'assessore alla sanità Paolucci per quanto riguarda la sanità abruzzese? Noi non possiamo assolutamente perdere la qualità nell'ospedale, nel servizio, anche perché se noi cittadini abruzzesi vanno altrove, rischia di aumentare la mobilità passiva e come il cane che si morde la goda, sulla sanità ritorneremo a vecchie tensioni sul piano dei bilanci. Quindi è un tema delicato che noi vogliamo approfondire, così come è indispensabile completare la rete della sanità territoriale. Insomma, l'attenzione sui presidi ospedaliere rimane ralta nei cittadini se continuano a capire che l'unico livello dove possono avere assistenza è nell'ospedale. Se invece però i distretti e gli ambiti vengono completati, come abbiamo chiesto, vengono riorganizzati, le assistenze e le cure domiciliari si possono fare, come avviene in altre parti d'Italia, le RSA vengono riorganizzate. Ecco, noi possiamo avere una sanità territoriale che attutisce l'attenzione per quanto riguarda il ruolo degli ospedali e permette una sanità all'interno delle comunità che è più governabile. Una conferenza importante, un confronto importante quello di oggi con la CISL, per quanto riguarda invece gli ospedali, la situazione dei punti nascita, a che punto siamo? Ma intanto è un confronto importante perché entriamo in un momento decisivo. Il piano di riordino previsto anche dal DM70 per l'offerta ospedaliera, ma anche il patto della salute 14-16 è un impianto che consente una radicale innovazione in sanità, direi anche rivoluzionale e quindi è molto importante confrontarsi. Per Corso Nascita ha dato grandissimi risultati. Io davvero partirò da qui. Noi abbiamo avuto 15 mesi di polemiche, però per la prima volta e dopo 40 anni abbiamo delle sale nuove e in sicurezza a Teramo, a Pescara, a Chieti, a Lanciano, a Basso, all'Aquila, a Avezzano. Oggi partorire in Abruzzo è decisamente con la rete Stam e la rete Sten più sicuro di prima. Oggi partorire in Abruzzo significa avere delle sale operatorie non solo accoglienti e belle, ma in numero sufficiente rispetto alle possibili emergenze. E adesso ci occupiamo del parco della costa teatina. Il Consiglio regionale d'Abruzzo nella seduta di ieri ha approvato all'unanimità tra gli applausi dei comitati nombrina mare e presenti l'istituzione del parco naturale regionale Costa dei Trabocchi. L'area protetta sorgerà in provincia di Chieti, tra il confine nord del comune di San Vito Chietino e il confine sud del comune di Rocca San Giovanni. Si estende per 6 miglia marine nel tratto di mare prospicente i due centri del litorale frentano. La gestione dell'area protetta è affidata ai comuni di San Vito e Rocca San Giovanni che avranno 120 giorni di tempo per nominare gli organismi del parco. Per la gestione gli stessi comuni potranno avvalersi di associazioni di protezione ambientale, di società cooperative, delle università e dell'istituto zooprofilattico sperimentale d'Abruzzo e Molise. All'interno del perimetro del parco, in ogni caso, saranno consentite le attività di pesca e il transito di datanti e piccole imbarcazioni. Per il 2015 è previsto un contributo della regione di 50 mila euro, mentre per gli anni successivi lo stesso sarà stabilito dal bilancio regionale. Il Consiglio ha approvato anche la deroga ai termini di pubblicazione sul Burat. Cambiamo adesso argomento e andiamo al comune dell'Aquila. Parliamo della crisi all'interno della Giunta Cialente. Gli amministratori passano, i problemi restano. Il giorno dopo la sua estromissione, l'assessore Lelio De Santis, si sfoga così il servizio di Antonella Calcagni. Gli amministratori passano, i problemi restano. A 24 ore dalla sua cacciata, l'assessore Lelio De Santis è ancora incredulo. Nessun contatto con il sindaco Cialente e tanta delusione. Mi sarei aspettato chiaramente almeno una motivazione, una telefonata, una giustificazione, ma questo non vale, non importa. Evidentemente lui pensa di fare bene, io ho un punto di vista diverso. Se dissentire, se esprimere un punto di vista con toni diversi, significa, viene interpretato come l'esamaltà, come un attacco alla persona, alla leadership, allora è un altro punto di vista, questa non è democrazia, è un'altra situazione. Mi auguro che alla fine di questa Vicenza non ci rimetta la città e che si trovi una soluzione al di là dei De Santis o dell'IDV perché gli amministratori passano, i problemi della città rimangono, sono grossi. È nel suo ufficio a riprendere gli oggetti personali e a sistemare gli ultimi documenti, fra questi la variazione di bilancio, ultimo atto prima di andare a casa. A proposito di maggioranza, senza i due consiglieri dell'IDV si è tecnicamente sotto. A questo punto il sindaco potrebbe voler andare a casa e quindi usa questi l'IDV come scudi umani? Ma il sindaco è un uomo di grande esperienza politica, qualche volta sa ben giocare la sua parte, alza il tono, gioca, è un bravo attore sullo scenario politico, quindi quello che pensa, quello che ha dettato questa sua scelta, io non so, non mi interessa più di tanto. Voi appoggerete Trifu oggi alle prossime amministrative? Ma io ho detto nella conferenza stampa, l'unico elemento politicamente significativo che è stato espresso dall'IDV e da me in particolare è stato questo. A 18 mesi dall'elezione non ha senso attardarsi in dispute sul totosindaco, Trifoggi, Francesco, Giovanni, non ha senso, alla gente non interessa nulla e quindi abbiamo detto, e questa era la ragione della conferenza stampa, non perdiamo questi mesi dietro queste schermaglie, concentriamoci nell'attività amministrativa, rilanciamo l'attività amministrativa insieme di concerto col sindaco e con la maggioranza, non si può equivocare, strumentalizzare le cose che abbiamo detto. Restiamo ancora all'interno del Comune dell'Aquila, ancora a parlare della crisi, il sindaco ha segnato le deleghe vacanti a Trifoggi e Pelini, De Santis è stato punito per mancanza di lealtà, così ha commentato, vediamo. Cialente tira dritto, la lealtà viene prima di tutto, spiega, le deleghe dell'ex assessore e l'elio De Santis saranno ripartite fra il vice sindaco Nicola Trifoggi che avrà il bilancio e Fabio Pelini di rifondazione che otterrà il turismo. Giorni fa mi si rimproverava da parte di un Consiglio Comunale dell'opposizione che io stavo moltissimo, mi dice tu sei un moralista, io credo, sì forse sono un moralista, però credo in alcuni valori, uno di questi è quello di una lealtà reciproca, secondo avviene un momento politico particolare di difficoltà. Terzo mi fa pensare a questo volersi tirare fuori le responsabilità. Perché? Ma perché è un modo anche di fare, pensare già alle elezioni, fare i belli, sì siamo dentro ma noi siamo quelli che sollevano i problemi, questa è una cosa che non è possibile, dato che non era la prima volta, io avevo già più volte detto a De Santis che alcune sue esternazioni mi infastidivano, tipo quella che il progetto CARS era stato gestito con superficie a età di tantissimo che è stata usata ad esempio alla Corte dei Conti per condannarci e così via. Perché le deleghe al Vice Sindaco Trifuoggi? Perché quello più alleggerito in questo momento è una parte di delega a lui, una parte di delega a Pelini e si fa un discorso di carico di lavoro. Cosa a Pelini? Ma non so se a Pelini potrò dare qualche cosa tipo il turismo che potremmo fare insieme, insomma dividere un pochino perché l'assistenza alla popolazione che è tuttora un caos, comunque un po' va scemando e rinforziamo un po' gli assessorati. Nessun timore di andare a casa in seguito alla perdita di due consiglieri dell'IDV di Nicola e durante, la città deve sapere. Con l'assestamento tutti a casa? Se De Nicola e Durante decidono di essere a casa, basta che dicono alla città, noi andiamo tutti a casa perché De Santis è stato mandato via. È un problema loro di fronte alla città di responsabilità. Restiamo ancora a parlare del capoluogo regionale. Dopo oltre un anno dal primo caso, un nuovo balcone pericolante a rischio crollo negli alloggi antisismici del progetto case realizzati dopo il terremoto del 6 aprile 2009 per ospitare circa 15.000 aquilani. Da stamani i tecnici e uomini della Polizia Giudiziaria del Corpo Forestale sono a lavoro nella New Town di Cese di Preturo, una delle 19 realizzate, perché un'altra terrazza ha avuto un cedimento strutturale che, secondo quanto riscontrato, potrebbe portare al crollo. Sono in corso ovviamente le operazioni di messa in sicurezza. Adesso andiamo a Pescara per parlare del Ponte del Cielo. Dopo il preavviso di Di Niego da parte della Soprintendenza Abruzzo sulla realizzazione dell'opera e sull'adeguamento dello stadio adriatico, oggi in Comune c'è stata una conferenza dei servizi in cui è arrivata la risposta dell'amministrazione Alessandrini. Vediamo. Questa mattina in una conferenza dei servizi già programmata abbiamo fatto il punto della situazione. anche sulla scorta dell'intervenuto preavviso di Di Niego da parte della Soprintendenza. Con i tecnici, i nostri dirigenti, con gli esperti, abbiamo verificato che le osservazioni fatte dalla Soprintendenza sono superabili. Sono superabili perché ci sono gli elementi, perché quelle osservazioni non risultano essere così cogenti da ritenere che il Ponte del Cielo vada ad interferire con la linearità di quel tratto di spiagge, di quel tratto di litorale della città di Pescara. Quindi immediatamente ci stiamo già attivando per formulare le nostre contradduzioni e speriamo, ci auguriamo, che la Soprintendenza perenda atto delle osservazioni che faremo possa non rivedere il parere negativo, ma dare un parere positivo alla realizzazione di quella opera straordinaria che andrà a valorizzare ancora di più quel tratto di spiaggia. Problemi anche per l'eventuale ristrutturazione dello stadio adriatico Giovanni Cornacchia? Anche qui rileviamo che la Soprintendenza intende porre un vincolo sull'intera opera perché la ritiene che ci siano stati i giochi del Mediterraneo, perché si è intitolata Giovanni Cornacchia e altre ragioni che adesso, non so, riteniamo anche in questo caso che insomma si vada un po' oltre e si tenga conto soltanto di alcuni particolari che pure dobbiamo tenere in considerazione perché non vogliamo demolire né memoria né storia architettonica di questa città, ma sicuramente non può non tenersi conto di quelle che sono le modificazioni economiche e sociali di una realtà che insomma anche la Soprintendenza deve farsi carico. Ed ora una notizia da pochissimo arrivata in redazione riguarda il progetto Marsica. Questa mattina si è tenuto a una giunta regionale straordinaria proprio per discuterne ad Avezzano il ripristino del ciclo idrico integrato, la canterizzazione del nuovo ospedale di Avezzano, la banda larga per tutti i comuni marsicani. Sono queste le priorità che la giunta ha individuato per rilanciare la Marsica e che chiamano in causa proprio l'ente regione per la copertura finanziaria. Lo ha detto il presidente della giunta regionale abruzzese, Luciano D'Alfonso, nell'ambito, come detto, della riunione straordinaria. Altra tematica fondamentale trattata è stata quella del trasporto su ferro riguardante la linea ferroviaria Pescara-Avezzano-Roma. Sarà una vera e propria rivoluzione, ha dichiarato D'Alfonso, che dipenderà dalla contrattazione con Trenitalia. È previsto, infatti, uno slot ferroviario dedicato che in tre ore e dieci minuti consentirà di raggiungere la capitale. Torniamo al Comune di Pescara per parlare di pubblica amministrazione. Questa mattina l'assessore Sandra Santavenere ha presentato in una conferenza stampa importanti novità sulle semplificazioni amministrative per le attività produttive. Assessore Santavenere, oggi in conferenza stampa, ha illustrato due provvedimenti importanti che riguardano la semplificazione amministrativa. In particolare ci sono delle nuove norme, delle novità che interessano i cittadini e non solo. Ci siamo dotati per la prima volta come amministrazione di un importante strumento per la semplificazione, che è il regolamento SUAP. Nel pieno spirito del DPR 160 2010, che appunto regola lo sportello per le attività produttive, e noi abbiamo voluto con questo regolamento dare uno strumento di semplificazione, quindi snellire tutto il procedimento, in maniera tale da dare a tutte le utenze che si rivolgono ovviamente per l'avvio di attività un percorso chiaro, un percorso che possa ovviamente facilitare anche la interlocuzione con gli uffici ed è quindi per noi un importante risultato. Poi c'è un altro provvedimento che riguarda una cosa diversa dalla sua. Sì, abbiamo anche portato la modifica all'articolo 92 del regolamento di igiene e sanità che si occupa appunto dei servizi igienici. Questo è un importante aiuto che noi diamo a quelle piccole attività commerciali e che per dimensioni ridotte, e parliamo infatti di andare in deroga a quelle che sono le dimensioni richieste per i servizi igienici, nei locali che non sono superiori a 50, quindi inferiori a 50 metri quadri. Questo è molto importante perché in una città come Pescara che comunque l'attività produttiva e le attività commerciali rivestono un ruolo fondamentale, l'amministrazione ha voluto avere una maggiore attenzione e quindi queste due delibere vanno proprio nella direzione di dare impulso, di dare un sostegno a queste attività produttive anche in un momento soprattutto così difficile. Aziende agricole sull'Astrico per i rimborsi del post-terremoto. La senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane ha presentato una interrogazione. Vediamo. Continuano a soffrire le 58 aziende agricole della regione, una quarantina dell'Aquilano, che dal sisma non hanno ancora ricevuto gli indennizi per i danni subiti. La senatrice Stefania Pezzopane ha presentato una interrogazione al Ministro per le politiche agricole. Sì, un'interrogazione nella quale ho coinvolto anche parecchi colleghi e per la quale ho chiesto la risposta urgente e diretta in commissione proprio per accelerare i tempi. Quest'interrogazione nasce da incontri che ho fatto con questi operatori economici che sono veramente disperati. Sono passati sei anni dal sisma e loro ancora non ricevono nessun rimborso. ma c'è un paradosso che aggiunge a credine e anche preoccupazione che questi operatori sulla base dei bandi che l'allora Ministro Zaia promosse hanno dovuto anticipare delle somme e adesso con le procedure che la precedente giunta regionale ha adottato non riescono a recuperare queste somme. Si tratta di milioni di euro relativi ad un danno riconosciuto al 100%. Il peccato originale è stato l'aver previsto nel provvedimento un meccanismo di anticipazione che ha costretto molte aziende a chiudere. L'attuale giunta ha fatto una delibera che riconosce l'errore, l'errore precedente macroscopico però nonostante questo riconoscimento di errore queste persone sono alla disperazione perché comunque già c'è stato il danno, hanno dovuto chiudere le aziende hanno tentato di riaprirle, hanno anticipato le somme e non si vede la fine di questo tunnel. Io sono al loro fianco, si sono mobilitati, hanno costituito un comitato spontaneo l'obiettivo qual è? L'obiettivo è far dare a queste imprese i soldi dovuti. È stato presentato a Pescara un progetto di Telefono Amico per la sicurezza solidale patrocinato dall'amministrazione comunale. Vediamo di cosa si tratta. Non solo stelle, parliamo di uno spettacolo per beneficenza che si terrà a Pescara, uno spettacolo per Telefono Amico. Telefono Amico è un servizio che abbiamo messo su noi di Rete Sicurezza Solidale siamo degli ex appartenenti alle forze dell'ordine e degli associati che hanno operato nel sociale o che intendano farlo. L'abbiamo messo su per stare vicine alle persone che sono sole e che spesso sono afflitte da problematiche varie e non sanno a chi rivolgersi in quest'era moderna. Abbiamo messo su uno spettacolo di qualità curato da Viviana Bazzani che è un vero motore propulsivo di queste organizzazioni essendo un attore, un ex appartenente alla Polizia di Stato ha fondato l'ufficio Minori nel 1995 a Pescara. Ho accettato con grande piacere essere testimonial del Telefono Amico. Il Telefono Amico è un telefono molto particolare soprattutto quando nasce nelle province, perché lo spiego semplicemente perché la gente nelle province si conosce, soprattutto le donne maltrattate soprattutto magari i minori che subiscono violenza e c'è un certo timore di andare in determinati uffici. Il Telefono Amico è anonimo, permette in qualche modo a queste persone di chiamare di parlare con persone competenti, le quali cercheranno lentamente con grande esperienza psicologica di consigliare al meglio queste persone. Ovviamente il Telefono Amico non vuole togliere professionalità, lavoro ad altre associazioni, allo sportello antiviolenza che fanno un ottimo lavoro però è un grande aiuto, credetemi. Dall'oliva all'olio attraverso la varietà e il titolo del convegno in programma domenica 8 novembre al Castello Chiola di Loreto Aprutino in contemporanea ci saranno anche visite guidate nelle aziende agricole al Frantoio Museo dell'Olio e all'Oleoteca regionale. Scopriamo questa giornata nel servizio di Antonio Recanati. Domenica prossima 8 novembre a Loreto Aprutino arriva la giornata dell'olio nuovo, un convegno al Castello Chiola al mattino ed in contemporanea visite guidate fino al pomeriggio attraverso un'azienda agricola, poi il Frantoio, il Museo dell'Olio e l'Oleoteca regionale. Si avrà così la possibilità di vedere l'intera filiera produttiva dell'olio extravergine di oliva di Loreto Aprutino uno dei paesi con la più alta produzione di olive e di olio in Abruzzo. Il convegno, dal titolo dall'oliva all'olio, vedrà vari argomenti e con i relatori Leonardo Seghetti, docente dell'Istituto Agrario di Ascoli Piceno che parlerà di una varietà un olio, caratteristiche analitiche a confronto. Gli agronomi della regione Abruzzo, Luciano Pollastri che spiegherà la varietà in campo, scelte potenzialità e risorsa genetica. Giuseppe Cavaliere che parlerà di oli monovarietali, una tipicità da valorizzare e l'agronomo vivaista Roberto Di Primio. Le conclusioni saranno affidate all'assessore all'agricoltura della regione Abruzzo, Dino Pepe. E adesso apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie B. In primo piano il Pescara, allenamento a porte chiuse per i biancazzurri alla vigilia del match contro la Ternana. Odd è pronto a rilanciare Mandragora e Verre a centrocampo. Dubbio Caprari-Cocco in attacco, invece squalificato per due giornate Memushai. E noi andiamo ad ascoltare adesso uno dei protagonisti del centrocampo biancazzurro. Parliamo di Bruno. La Serie B non puoi prescindere dal livello agonistico. Se tu pareggi tutte le partite, il furor agonistico, in più metti le qualità che abbiamo noi in campo, il risultato è facile, puoi vincere tutte. Però tu comunque se non metti questo furor agonistico, solo con la tecnica non puoi mai fare risultati importanti. E a noi è mancato questo pizzico di furor agonistico che comunque cercheremo di migliorare durante la settimana e cercheremo di non commettere più questo tipo di errore. Ripeto, non si può sempre giocare bene e fare calcio a champagne. Bisogna capire che anche in qualche circostanza, quando non si è in giornata, quando non ti escono determinati tipi di giocate, bisogna stare sempre attenti e concentrati e portare la partita sul lato nostro, che vogliamo noi. Dobbiamo essere bravi in queste circostanze, in queste situazioni e quando si deve battagliare si battaglia, non ci si deve indietro. E forse questa caratteristica ancora non è presente in noi, ma dobbiamo sicuramente durante la settimana migliorare e cercare di limare questo piccolo difetto. È una partita molto difficile, perché conosco l'allenatore, conosco quello che richiede ai giocatori. Sarà una partita difficile, battaglieri, loro sicuramente verranno qui, giocheranno sempre sulle ripartenze e saranno molto agguerriti. Dobbiamo pareggiare questo furor agonistico, come ho detto prima, con la Ternana e poi, ripeto, mettere in atto tutte le nostre qualità, perché noi abbiamo tantissime qualità, però senza l'agonismo non può andare da nessuna parte. Io sono a disposizione del mister, qualsiasi scelta farà il mister, io sono sempre a comprare la disposizione e dare sempre il massimo per quanto riguarda, cioè fino a quando vengo chiamato. Poi, se ci sarò o non ci sarò, mi dispiace non giocare, perché vorrei fare bene, vorrei far vedere al mister Breda che comunque ci tengo a fare bene, quindi non lo so, vediamo un po' come va la settimana, però io sono sempre a disposizione. Io, ripeto, lavoro durante la settimana per giocare sempre. Il segreto di un gruppo vincente è quello di allenarsi sempre al massimo, chi gioca e chi non gioca. Chi gioca deve legittimare il posto di squadra, perché va legittimato. Chi non gioca deve conquistarselo, questo è il segreto principale per una squadra vincente. Esame Arezzo per i biancorossi del Teramo e siamo in Lega Pro, che dunque se la vedranno con una formazione di rango. Dopo il pari di Carrara bisognerà subito avere un pronto riscatto e riconquistare i tre punti e noi andiamo ad ascoltare adesso Dorazio. Ci stiamo compattando ancora come squadra, quindi ci sta purtroppo dicendo male che subiamo subito, andiamo subito in svantaggio, ma secondo me è solo questione di tempo, perché noi ogni settimana lavoriamo per migliorarci e penso che pian piano verremo fuori anche da questa situazione. Diciamo che io sono andato come terzino, quindi l'ha sempre fatto tutta la fascia, non tutta la fascia, però mi sono sempre trovato bene sulla fascia. Naturalmente questo è il ruolo nuovo per me perché, come hai detto tu, mi trovo a fare tutta la fascia, però pian piano mi sto adattando bene e non mi dispiace come ruolo. Quest'anno probabilmente col fatto che ho più spinta, arrivo più sul fondo e più in avanti, potrei avere qualche possibilità in più. L'anno scorso c'è avuto quattro occasioni, non ho mai tirato più di quattro volte in borta, quattro gol l'ho fatto, quindi sono stato anche fortunato, però il importante è trovarci di là. L'Arezzo è sicuramente una buona squadra e, sapendo che ho avuto un percorso non facile, diciamo che non sta facendo benissimo, poteva fare di meglio. Naturalmente noi sappiamo che non sarà una partita facile domenica. Che vuoto dai al Teramo, che hai giocato nove dai o un po' più di un mese? Vuoto? Un sei e mezzo, perché venendo, ti ripeto, è una situazione come perché è rimasto quest'estate, psicologicamente non è stata facile. Poi il fatto che abbiamo dovuto giocare tutte queste partite in un mese, quindi voglio dire, venirne fuori non è mai facile. Non è una scusante, però voglio dire che non è mai facile. Adesso scendiamo in serie di pace fatta fra Comune di Chieti e Società Nero Verde sullo Stadio Angelini. Oggi c'è stata una conferenza stampa congiunta tra il Presidente Pomponi e il Sindaco Di Primio, in cui è stato ripreso un importante discorso che riguarda la gestione dello stadio da affidare alla società Chieti Calcio. Intanto Chieti Giulianova si giocherà nell'impianto dello stadio Angelini. Andiamo a vedere insieme il servizio. Pace fatta tra il Comune di Chieti e la Chieti Calcio dopo l'annuncio di ieri della società Nero Verde di emigrare a Dortona per le gare casalinghe del campionato nazionale di Serie D a causa delle pessime condizioni del terreno di gioco del Guido Angelini. Questa mattina c'è stata nella sala stampa dello stadio di Viale Abruzzo una conferenza stampa congiunta del Sindaco Umberto Di Primio e del patron del Chieti Giorgio Pomponi per sancire la tregua e porre le basi per affidare alla società la gestione dell'impianto. Il 15 novembre Chieti Giulianova si disputerà dunque regolarmente al Guido Angelini. Uno fa pace quando litiga, abbiamo litigato io Umberto, perciò non è in modo più assoluto. Sicuramente sono state trafugate alcune frasi dette. Sicuramente da quest'altra parte c'era il malcontento, il comune mai menzionato noi eravamo soltanto indispettiti dall'atteggiamento da parte dell'atletico e basta. Ha detto bene lui, nessuna guerra, forse un eccesso di passione da parte di entrambi perché entrambi vogliamo la stessa cosa, vogliamo vincere il campionato lo voglio vincere lui perché è il presidente della Chiricalcio lo voglio vincere io perché sono il sindaco di Chieti e sono tifoso della squadra della mia città. Questo è quello che abbiamo forse ecceduto nel dichiarare. Ma al di là di questo c'è la volontà ferma da parte dell'amministrazione che vede nella gestione della Chiricalcio una chance per anche il futuro dell'impianto dell'Angelini e soprattutto c'è una grande voglia di dare la possibilità alla nuova società della Chiricalcio di utilizzare l'impianto anche per fare più grande il Chieti. Sotto il profilo tecnico-giuridico noi dobbiamo trovare il modo per fare sì che la Chiricalcio possa gestire l'impianto in modo da rientrare dell'investimento che farà. Per far questo c'è bisogno di una garanzia all'eventuale accesso al credito sportivo o a finanziamenti di altro genere. Il Comune non poteva farsi garante di questa cosa, la società si farà garante anche di questo quindi diciamo che il Comune ha avuto il massimo risultato possibile addirittura più di quello che poteva sperare. La Chiricalcio si graverà di un ulteriore gravame ma questo se è finalizzato a realizzare il progetto nel quale loro credono e noi crediamo ancora di più, credo che si possa tranquillamente andare avanti. E' tutto per questa prima edizione del TG6 io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 19 grazie per essere stati con noi, buona giornata. Grazie. Grazie. Grazie.